allora io direi di partire con questo rp podcast dicendo un bel buonasera londra buonasera londra perfetto oggi abbiamo qui andrea biasci che presento molto brevemente ma poi ci dirà meglio lui io so andrea che tu sei per chi appunto non ti conoscesse o comunque non ti conoscesse abbastanza io so che tu sei stato in passato studente di scienze motorie sei partito come studente di scienze motorie percorso che correggimi poi se sbaglio avevi lasciato e tutto questo hai anche fatto penso quando appunto hai lasciato gli studi hai fatto diversi corsi issa penso sì se ho fatto i tre corsi issa e poi però mi sembra che li hai ripresi gli studi tra l'altro in età adulta cioè verso i 30 giusto avevo 30 anni per completarli immagino per completarli altro punto di andrea che fa sempre sorridere a me che spesso viene viene insomma viene criticato come secco saccente diciamo che parla di pesi e ipertrofia senza però secondo me tante volte tener conto del tuo passato anche da atleta perché questa cosa tante volte beh infatti non è saputa penso non è conosciuta e appunto viene un po trascurata poi andrea oltre tutto questo una cosa invece per cui ha conosciuto è che è il fondatore e anche se io se non sbaglio del progetto invictus che è una delle realtà italiane più importanti che abbiamo nel panorama del diciamo fitness a tutto tondo in italia quindi di me sono dimenticato qualcosa in questa breve presentazione penso ci sia ci sia più o meno tutto nel senso che poi le cose importanti sono queste quindi hai fatto un titolo a quello che poi magari andremo a sviluppare oggi però il sunto che potete portarvi a casa è questo insomma si guarda io oggi ti ho chiesto di partecipare intanto probabilmente lo sai già ho già chiesto un po dei tuoi collaboratori di partecipare qualcuno ha già partecipato e però quello che diciamo ammiro di te comunque tutto il tuo percorso è proprio quello che hai costruito nel tempo perché appunto le persone vedono sempre dall'esterno parlando di te il project però anche lì non sanno tutto quello che ci può essere stato dietro per arrivare al project project per come lo conosciamo al giorno d'oggi quindi una cosa che mi piace tanto sempre andare a guardare magari è l'aspetto anche motivazionale che ci sta dietro che si può trarre tante volte dalle persone come ad esempio in questo caso la tua persona perché è una cosa che manca tante volte soprattutto ai giovani mi viene in mente banalmente mi scrivono in tantissimi soprattutto in questo periodo che magari si sentono demotivati ma ti parlo di giovani anche riferendomi un po al discorso di università capisci per siamo tutti chiusi in casa ok però in generale demotivati perché non sanno bene come poter arrivare a un certo punto eccetera e niente qui appunto mi interessa molto questo discorso qui da anche dal tuo punto di vista allora guarda se posso collegarmi alla prima cosa che hai detto e anche a quest'ultima anche io ci sono passato per la demotivazione infatti quando ho finito il liceo ho iniziato scienze motorie e l'università credo che fosse addirittura il secondo anno dalla nascita di scienze motorie quindi non ho fatto il primo anno che era appena nata la facoltà dall'isef ho fatto il secondo anno e quindi c'era proprio la transizione e da dal corso che era prima alla laurea e però io sono rimasto abbastanza deluso nel senso che mi aspettavo un altro tipo di studio un altro percorso ho fatto un anno di scienze motorie e poi sono andato direttamente nel mondo del lavoro nel senso che magari come tanti ragazzi che ci possono ascoltare non è che avessi tutta quella voglia di passare il tempo sui libri e devo dire che la voglia non ce l'ho ancora adesso nel senso che sono sicuramente uno che studia uno che gli piace leggere uno che si compra molti più libri di quelli che riesce a finire ma come vengono come vengono passati dall'università è veramente veramente difficile dal mio punto di vista riuscire a essere ligio essere costante in quel tipo di studio perché dal mio punto di vista l'università soprattutto l'università italiana è troppo scollegata dalla realtà è troppo scollegata dalla pratica e non insegna lo studente l'unica cosa che forse l'università dovrebbe passare ma anche il liceo che è quello di diventare attivi nello studio e invece il professore vuole che impari determinate cose vuole che impari le sue di cose e lo studente rimane sempre passivo rispetto alle nozioni che molto spesso è costretto a imparare in buona parte a memoria se rielabora con un suo pensiero magari vede anche bocciato è giudicato male e io questo tipo di studio l'ho sempre veramente sofferto tantissimo e quindi quando ero giovane questa cosa mi è pesata mi è pesata tantissimo e mi ha fatto lasciare per un buon dieci e passa anni l'università poi mi sono avvicinato al mondo del lavoro ho iniziato prima fare l'istruttore di sala poi il personal trainer poi mi sono reso conto che potevo guadagnare di più come personal trainer lavorando a domicilio e non più nelle palestre e quindi quello ho fatto anche domicilio proprio ti andavo a domicilio gli ultimi anni della mia tra virgolette carriera da personal trainer lavoravo soltanto a domicilio e tutto questo avevi già fatto giusto i corsi che avevamo accennato prima quelli avevo fatto sì ho fatto prima i corsi della fif mi sono avvicinato alla corsistica attraverso la fif e successivamente vedendo un po di colleghi che lavoravano visto che avevano fatto l'issa e quindi poi mi sono avvicinato anche alla formazione dell'issa che ho completato anche lì e diciamo però che quello che io mi sono reso conto che comunque la clientela si fidava soprattutto del laureato cioè nel senso a prescindere dal percorso formativo che avevi fatto se avevi la laurea titolo dici il titolo di studio per i miei clienti che non ne sapevano niente per loro era più cioè far venire una persona laureata a casa che ti segue era una sicurezza in più che far venire tizio che non è neanche dottore insomma ecco e quindi ho detto va bene ma se io voglio presentarmi sul mondo del lavoro in un certo modo voglio chiedere una certa tariffa eccetera 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 è bene che questa laurea la completi e mi porto a casa il titolo da dottore quindi mi sono riscritto all'università ho fatto il percorso di studi dove ho conosciuto andrea roncari l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto assieme anche hai ripreso è ma guarda non mi ricordo penso trent'anni sai adesso sono passati più di dieci anni e quindi non vi ricordo però penso intorno alla trentina d'anni sì e tu avevi avevi fatto il primo anno e avevi ancora cioè avevi già degli esami passati dal primo anno però avevo chiuso il mio percorso università ok sono ripartito da capo e intanto però che studiavo al tempo non c'erano i social ma c'erano i forum e nel senso da dalle nozioni che ricavavo da internet rispetto a quelle che ricavavo in università c'era un abisso cioè detto cavoli l'università non può essere così indietro cioè qua nel senso da 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 una parte gratuitamente c'è dell'oro e dall'altra parte in università cesto studiamo delle cose che non hanno un attinenza pratica dal punto di vista pratico quando provano a dare qualche risposta sono sicuramente superate e allora ho pensato che a livello commerciale ci potesse essere la possibilità siccome sui forum si faceva tutto gratuitamente ho pensato che quelle nozioni lì invece in qualche modo serie organizzate presentate in un certo modo potessero poi dare una certa forma di reddito non sapevo bene cioè pensavo a dei corsi venendo dal mondo issa o pensavo a dei libri vedendo per esempio roberto albanesi che sulla corsa e l'alimentazione col suo sito si era aperto la sua casa editrice quindi avevo già dei modelli diciamo però io sono partito dicendo io metto queste informazioni che non mi sono inventato preso dagli altri ho rimesso sotto una certa forma eccetera 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 e vediamo che cosa succede su web poi collaboravo già con paolo evangelista allora lui l'avevo conosciuto perché leggevo il suo foro il suo sito ma si prima si chiamava proprio eron paolo poi la chiuso l'ha riaperto come smart lifting e quando lui iniziò a fare le sue tra virgolette riunioni convention a casa sua si mi ricordo mi ricordo perché io ho partecipato ti dico è l'ultimissimo che ha fatto nel 2017 mi sembra e lì ci aveva fatto un po un excursus tipo del primo che ho organizzato non mi ricordo se da lui o dal lui da lui alla terina e quindi lì sono andato l'ho conosciuto forse prima l'avevo chiamato al telefono perché sul forum mi ero fatto dare il numero vabbè comunque è nato è nato un po da lì tramite forum mi ero avvicinato ad adogruzza perché all'inizio facevamo i corsi io paolo e ad o tutti e tre assieme è vero credo di aver visto una foto sì che sì di un corso proprio di powerlifting mi sa dove saranno sia se si a lei che ad o se facevamo tutti e tre i corsi assieme poi ad ho preso ha creato life e ha preso un'altra un'altra strada e ecco poi c'era appunto a sempre andrea roncari con cui avevo fatto l'università quindi mi dava una mano sul sul sito c'era eric neri che allora era uno dei primi a portare in italia il calisthenics c'era lenne riccardi che si occupava del crossfit e di tutta quella parte lì quindi eravamo un bel gruppetto eh sì eravamo un bel gruppetto e siamo siamo partiti così quindi nel momento io intanto appunto studiavo all'università stavo iniziando a elaborare questa roba qua appena ho finito l'università mi sono messo con il blog con il sito e invece ricollegandomi a quel discorso cioè quella l'intro di prima riguardo al tuo passato da sportivo allora quello che mi interessava sapere anche qui era cioè perché io non ho mai capito io so che tu sei stato atleta di kettlebell tra l'altro mi hai anche detto che delle volte sei nato anche in russia se non sbaglio in russia in bielorussia in ucraina allora io sono partito a 16 anni ho iniziato a fare pugilato e ho fatto la carriera prima in terza serie poi in seconda serie nel pugilato e poi arrivato intorno ai 24 anni ho mollato e volevo però come dire continuare a fare a fare qualcosa a fare qualche gara non sapevo se darmi al brasilian jiu jitsu se fare powerlifting se e ho iniziato a girare i forum non tanto per per l'allenamento in palestra ma più che altro per farmi un'idea quindi giro solo per le cose di classi che si esatta e volevo fare qualcosa comunque qualche gara perché comunque la parte agonistica mi era sempre piaciuta e cioè ho sempre legato la motivazione all'allenamento al fatto di fare una gara e per me era molto difficile trovare la voglia di stringere i denti se poi non c'era un obiettivo un obiettivo eccetera vabbè allora ero molto indeciso su che cosa fare e sui forum c'era mattia mattia 88 adesso non mi ricordo più il nickname che aveva che era questo ragazzo che si allenava con i kettlebell allora i kettlebell non erano molto conosciuti però lui era veramente molto 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 forte a 360 gradi e sosteneva che era molto forte grazie a questi attrezzi qua e che in realtà era molto forte geneticamente è un classico però oggi però oggi ho detto cavoli nel senso c'è questa cosa di a di essere abbastanza eterogeneo resistente ma anche forte eccetera 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 e ho preso e lo sono andato a trovare e lui ha iniziato ad allenarmi era molto 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 bravo nella programmazione nel senso che anche se era più giovane di me si allenava con criterio da vera quindi cioè adesso mi viene in mente in base al nickname quindi aveva un otto anni meno di te visto avevo otto anni meno di me sì 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 e tu voglio dire senza problemi sei andato da lui uno che è più piccolo di te di otto anni e ti sei fatto cioè ti sei vanno oggettivamente insegnare quello che aveva da poterti insegnare esatto no perché sui forum allora però c'è nel senso chi ha una marcia in più non dipende dagli anni nel senso assolutamente d'accordo su questo guarda io ancora oggi ti dico ci sono dei ragazzini di venti e qualcosa anni che per certi versi ne sanno molto più di me e io sono lì imparare da loro quindi per me non era assolutamente un problema e lo vedi anche questo è il tipo di mentalità giusta per per arrivare a certi a certi traguardi anche o comunque per continuare a migliorarsi sì sì no no è vero vabbè io insomma mi sono affidato nelle nelle sue mani e mi ricordo che dopo un mesetto che mi allenava lui in palestra tutti dicevano ma che cazzo hai fatto che cazzo hai fatto cioè come fai come fai e il personal trainer che lavoravano con me in palestra l'avevo voluto conoscere quindi questo mi ha fatto vi ha fatto ridere e vabbè da lì ho iniziato a utilizzare Ketebel che poi sono esplosi nel senso che lui li aveva conosciuti non attraverso la versione quella che arrivò in Italia l'RKC esatto con Pavel ma perché aveva conosciuto Oleg Ilika che era questo ucraino che era un atleta in Ucraina e si era trasferito con la famiglia in Italia e gli aveva fatto conoscere gli attrezzi siccome questo Oleg era un altro mostro di genetica e Mattia aveva visto uno più forte di lui cioè io volevo copiare Mattia che era forte Mattia voleva copiare il suo Oleg e quindi ognuno aveva il suo punto di riferimento a cui mirare e lui l'aveva conosciuto così e questo è stato un altro passaggio fondamentale per me perché nel senso nel dire voi sport si utilizzano due Ketebel da 32 kg a prescindere dal peso a prescindere dall'età a prescindere da qualsiasi cosa e il fatto che tutti utilizzino queste pezzature cioè vuol dire come dire è una cosa normale non è che ti chiedi sono pesanti o sono leggere si fa così punto e basta cioè è lo standard e io invece vedevo che poi il Ketebel mano a mano allora si come dire si stava portando in Italia c'era Maddaloni Maurizio Maddaloni che era uno dei primi che lo portava eccetera eccetera ma io guardavo i risultati e dicevo un po' snaturando ma sì cioè questi sono tutti scarsi cioè nel senso com'è possibile che sta gente dice di allenarsi e fa questi risultati qua nel senso e allora tu calcola che io dopo un mese che mi allenavo con lui seriamente ero arrivato a fare 126 snatch con 24 kg con un cambio di mano e cioè nel senso lì allora c'era il test RKC che erano 100 snatch con 24 kg quanti cambi di mano volevi 5 minuti tipo sì in 5 minuti quanti cambi di mano volevi beh nel senso dicevo è passeggiata eh ti riscaldi e lo vendono come test per essere allora ho capito allora lì ho cominciato a capire che nel fitness c'era qualcosa che non andava se non c'era nessuno che si stava accorgendo semplicemente perché dal punto di vista tecnico ma come dire lì era tanto la tecnica perché comunque si parla di un quadro slancio e semplicemente che non insegnavano dal mio punto di vista in maniera più ottimale nel senso lo stacco da terra lo puoi fare anche col bilanciere ben lontano dalle tibie con la schiena curva e fatto male però già sollevare 100 kg in quel modo è un'impresa se invece tu impari a spingere bene sprofondare con i piedi eccetera 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 riesci a fare dei chilogrammi interessanti quindi lì era proprio l'approccio tecnico che mancava e questo fatto che nessuno se ne accorgesse e dal mio punto di vista mi sono detto ok cioè nel senso allora vuol dire che chi ha un punto di riferimento forse non lo è e allora lì ho avuto una visione molto molto critica delle cose a 360 gradi e quindi da una parte con i forum quindi è stato tutto un insieme vedi ma quando è che invece hai smesso diciamo con questo tipo di sport se hai smesso perché non so se magari ogni tanto continui ancora così ho smesso perché ho scoperto di avere una malattia congenita a livello dei vasi e sono stato ricoverato all'ospedale e lì ho scoperto nel senso che le vene del mio corpo non erano messe benissime sono molto molto fragili mi sono fatto operare l'anno scorso mi hanno dato 58 punti mi hanno tolto un po' di vene e quindi ho avuto dei trombi eccetera eccetera che mi hanno capito e quindi lì ho smesso poi è nata la bambina e quindi tra questa cosa qua che il medico diceva che non potevo più fare certi sforzi la bambina che comunque il nuoto ti avrebbe aiutato esatto 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 ho perso un po' tutto e poi lì ho lasciato stare ho detto vabbè comunque piccoli risultati li ho fatti nel senso che comunque in Russia quando fai le gare a seconda dei risultati hai dei riconoscimenti sportivi io sono riuscito in gara a fare 68 slanci completi con 32 che era il livello per l'Italia per raggiungere il Master Sport quindi diciamo che il titolo di Master Sport l'ho preso che è come dire è il primo titolo a livello nazionale importante eh ho presente perché cioè fanno la stessa cosa i russi anche col powerlifting giusto esatto Master è già una cosa eh sì cioè nel senso comunque ci ho sudato sotto parecchio per riuscire a prenderlo nel senso che però anche lì nel senso come dire avere questo obiettivo che ci ho dovuto lottare mi ha permesso di guardare le sfumature sia da una parte della tecnica sia dall'altra parte della programmazione perché senza tecnica senza programmazione eh no non ci arrivi lì eh non ci arrivi sì 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 questo è stato un altro tassello importante no ci credo ma ad esempio ecco anche qui come accennavo all'inizio tante volte le persone che non ti conoscono non sa niente di te ti vedono appunto che parli di allenamento e via dicendo che voglio dire ha ben cioè ha ragion veduta con tutto questo passato che hai avuto tra formazione e proprio pratica questi però non sanno il tuo passato e ti danno appunto del secco che parla di cose di cui non dovrebbe parlare ma cioè tu come come vivi questa cosa poi anche perché non tra l'altro non stai lì tanto a io non ho mai visto che tu ti metta a dire no io ho un passato sportivo e via dicendo ma no ma allora perché nel senso allora uno che come dire a me interessa il parere delle persone di cui ho la stima e vedi quante cose importanti mi stai dicendo in questa siccome tutti ti amano soltanto quando stai sotto tre metri di terreno e cioè nel senso io capisco che alcune persone o sono stupide di loro o non hanno le nozioni per poter giudicare e quindi danno un giudizio che oggettivamente non mi non mi fa né caldo né freddo ecco cioè nel senso ultimamente io non sto neanche più guardarli i commenti e se vedo qualche commento troppo idiota lo blocco e e finisce lì anche perché penso che se dovessi stare a rispondere è un po' come se sentissi la critica e c'è un detto che racconta che Buddha passa per un mercato con i suoi discepoli e a un certo punto una persona incomincia a insultarlo Buddha fa finta di niente va avanti si allontanano e a un certo punto un discepolo gli chiede ma maestro perché non ha risposto a quella persona là e Buddha gli risponde e se uno ti offre un cavallo ma tu non lo accetti il cavallo di chi è ecco nel senso rispondere a chi ti critica è un po' come accettare la critica se tu la critica la lasci morire lì rimane in bocca di quello che l'ha lanciata e finisce e finisce lì ecco io penso che le persone che vogliono capire ascoltano i contenuti che ho da dare le persone che si fermano a questi commenti non sono il nostro target quindi no lo capisco benissimo ma guarda mi aggancio proprio a questo per una cosa che ho sempre notato in te ma che anche banalmente continui a fare spesso porti queste anche citazioni oppure anche ho visto che ti piace un sacco la cultura greca cioè l'antica grecia ma questo a parte che immagino sia proprio una cosa che ti appassiona ma ti ha aiutato proprio anche nella tua formazione immagino anche da quello che mi stai dicendo in questa intervista proprio sul tuo comportamento in generale ti ha formato tanto allora io ho sempre pensato questo nel senso io mi sono sempre reso conto di non avere l'intelligenza per poter inventare qualcosa di nuovo o per poter fare chissà che rivoluzione nel senso sono doti che per esempio ho sempre visto molto di più in paolo evangelista o in un adogruzza o anche in questo mattia che mi allenava quei kettlebell loro avevano sicuramente dal punto di vista dell'allenamento della lettura eccetera eccetera una dote superiore alla mia io credo di aver avuto la capacità di saper unire tante cose magari lontane e diffonderle assieme per rinnovare in modo differente quello che c'era quindi diciamo ho studiato al liceo il periodo classico ellenico romano eh vabbè lo uniamo con il fitness utilizziamo però ti è rimasto parecchio sì no poi l'ho ripreso anche lì quindi nel senso io sono sempre stato appassionato di storia in generale mi sarebbe piaciuto fare o filosofia o scienze motorie alla fine ho scelto scienze motorie però anche la filosofia era tra le mie possibili possibili scelte e quindi ecco quello che io do sempre come consiglio è cercare di appassionarsi a tante cose perché poi anche cose lontane magari in qualche modo ti tornano utili ecco nel senso non sono mai stato quello che dice che l'università ma anche la formazione prima deve per forza preparare a un lavoro secondo me serve più che prepari a una forma mentis sì anche perché oggi l'innovazione tecnologica è talmente rapida che magari ti formano per qualcosa poi arriva una nuova tecnologia e quello su cui hai studiato diventa obsoleto se invece ti hanno dato degli strumenti per saperti adattare per saper leggere le situazioni eccetera eccetera è un po' come non dare il pesce all'affamato ma insegnargli a pescare ecco secondo me la funzione dell'istruzione dovrebbe essere teoricamente questa sono d'accordo su questo assolutamente sì guarda mi mi collego invece a un'altra cosa un dubbio che avevo io ecco riguardo al project Invictus perché project Invictus anche da quello che abbiamo visto adesso dunque nasce dalla tua esperienza appunto in ambito di personal trainer allenamento tra le varie persone appunto che frequentavi diciamo in quel periodo ma il mio dubbio un dubbio che avevo sempre avuto è come mai il primo libro del project Invictus è stato project nutrition cioè sulla nutrizione che tra l'altro tra l'altro l'autore sei tu in collaborazione con altri giusto se non ricordo male la prima edizione avevano partecipato un 25 autori esterni tra cui mi sembra anche qualche medico nutrizionista giusto giustamente anche perché si messo a parlare di nutrizione nutrizionisti anche perché non avendo io il titolo ma hai fatto benissimo perché voglio dire a tuttora si trovano libri di nutrizione da gente che non e quindi sì sì perché riguardava l'alimentazione perché io quando sono partito con project nutrition mi sono reso conto che i kettlebell che era l'argomento su cui ero più competente erano troppo di nicchia e stava arrivando il crossfit che secondo me avrebbe spazzato via il kettlebell l'ha inglobato come strumento esatto l'ha inglobato come strumento eccetera 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 quindi mi sono detto se sto a focalizzarmi su di me come dire le evoluzioni del mercato mi fagociteranno l'alimentazione invece è un evergreen che andrà andrà sempre bene che riguarda tutti a 360 gradi e quindi sono siamo partiti da lì è stata una scelta di posizionamento perché era l'argomento più di cioè come dire interesse generale magari sì cioè non avrei potuto parlare di bodybuilding perché non ho mai fatto bodybuilding e quindi non sarebbe stato credibile e allora non avevamo la persona giusta per poter fare il libro e quindi la seconda macro categoria assieme al bodybuilding e l'alimentazione project nutrition parte da lì ho capito ho capito e una domanda invece riguardo un po' l'avevo già accennato prima anche questo cioè tu pensi mai a quello che sei riuscito a creare in tutto questo riferito a io penso proprio alla realtà del project perché nel project noi troviamo veramente di tutto ma di tutto ben strutturato intendo perché ci sono appunto c'è la sezione calisthenics bodybuilding nutrizione anche crossfit perché infine ci sono anche i libri relativi al crossfit magari di nutrizione adesso c'è giusto un libro di nutrizione un allenamento e uno nutrizione ci sono tutti e due non si possono chiamare crossfit perché ah beh marchio registrato giusto marchio registrato no quello è vero hai ragione però appunto mi viene da pensare almeno che io sappia cioè in Italia non è forse l'unica realtà giusto che spazia in tutti questi argomenti tra l'altro cioè ormai è posizionata penso sia risaputo che come project in victus è posizionata penso anche al primo posto in questo ambito se non al primo posto tra i più sicuramente tra i primi allora sì dipende un po' che cosa come dire la posizione a che cosa si riferisce su Google il primo posto di my personal trainer che ci riferisce ah ok ok per cioè da quel punto di vista lì non lo scalzeremo mai però diciamo che per quanto riguarda la nostra nicchia perché come dire secondo me uno deve partire a chi si rivolge perché tu non puoi rivolgerti a tutti perché appunto piacere a tutti vuol dire non piacere realmente a nessuno e devi scegliere qual è il tuo pubblico il nostro pubblico è l'appassionato della palestra che è una piccola nicchia di chi va in palestra però se vuoi fare determinati argomenti ti devi rivolgere al professionista e all'appassionato perché se ti rivolgi a il dottor all'avvocato che vuole togliere la pancia all'asciura maria che devi fare tutta una serie di contenuti che non si possono sposare con altri più tecnici più mirati eccetera 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 quindi io mi son detto in palestra c'è un 5-10% di persone appassionate che non è che si iscrivono tre mesi e poi non vanno ma li piace fare li piace approfondire eccetera 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 ci rivolgiamo a quel pubblico lì che magari si allena a stile bodybuilding magari si allena con il calisthenis con il crossfit eccetera 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 quindi trattiamo un po' a 360 gradi ma sempre per appassionati e per professionisti ecco questo è il target a cui abbiamo mirato e a cui continuiamo a mirare ora anche perché appunto i nostri project nutrition per quanto sia tra virgolette un best seller se lo legge la persona media che vuole dimagrire non lo apprezzerà mai e arrivato a 10 pagine l'ha già chiuso si stufa si 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 eh no lì si purtroppo si cerca sempre il metodo magico che si stavi tutto facilmente quello purtroppo lo so noi abbiamo fatto qualcosa che ci desse soddisfazione a noi in primis cioè nel senso noi miriamo a vendere a un pubblico che sentiamo vicino a noi non miriamo a vendere a un pubblico che non ci rappresenta che non è in sintonia e questo è un po' quello che facciamo poi adesso abbiamo dei progetti che vanno un po' più lontano che usciranno a settembre e in cui ci sono persone nuove dentro il project che sono appassionati ad altre cose e quindi tratteremo argomenti che fino adesso non abbiamo preso però perché ci sono le persone giuste che comunque continuano a avere questa mentalità in nuovi settori e guarda mi collego a questo perché una cosa che volevo chiederti era proprio che cioè sapere di essere uno dei punti di riferimento per ciò che riguarda adesso io dico fitness per fare una super semplificazione comunque il fitness a tutto in Italia lo vedi come un punto di arrivo o c'è cioè sicuramente c'è perché già da quello che mi hai detto che hai in programma di fare c'è ma c'è qualcosa che ti sprona a svilupparti ancora di più come in realtà del project e tutto allora sì secondo le mie previsioni noi siamo a un 30% 20% del nostro potenziale quindi diciamo che ho ancora abbastanza fame per triplicare quintuplicare quello che c'è adesso nel senso che credo allora dal punto di vista dell'editoria siamo la casa editrice più importante nel settore e dal punto di vista della formazione non credo che nessun altro in Italia abbia fatto i numeri che abbiamo fatto noi quest'anno e però anche se ho detto questo è un settore in cui la maggior parte delle persone non conoscono qual è il leader dichiarato nel senso se tu chiedi agli amatori in palestra chi è il punto di riferimento qualcuno ti risponderà Project Invictus qualcuno ti risponderà Danny Lazzarin qualcuno ti risponderà Issa qualcuno ti risponderà altri altri nomi perché non c'è nel senso non so bibita zuccherata Coca Cola energetica Red Bull non siamo arrivati ancora a quel punto in cui comunque tutti riconoscono un leader dichiarato che è un po' l'obiettivo sì il nostro obiettivo è assolutamente quello lì il nostro obiettivo penso che ci possiamo arrivare nel senso che quando io sono partito ero io e mia mamma effettivamente a lavorare nel project nel senso che mia mamma mi ha aiutato dal punto di vista amministrativo perché era andata da poco in pensione aveva un'esperienza in uno studio notarile comunque con scartofie con cose ci ci sapeva un po' fare i libri che vendavamo li caricavo sulla panda di mia mamma che li portava in posta e li spedivamo a spedirli a spedirli tutti i giorni e siamo partiti così e oggi abbiamo otto dipendenti che lavorano a tempo pieno per il project Invictus e quindi sicuramente la situazione si è cioè è sicuramente cambiata si è voluta decisamente sì oggi abbiamo la possibilità come dire io da project Invictus come ho lasciato tutto lì e sto investendo tutto quello che l'azienda guadagna proprio perché penso che ci sia possibilità di allargare il mercato di crescere ancora per le percentuali che dicevo e questo sicuramente l'anno scorso due anni fa eccetera eccetera non l'avremmo potuto fare e mi dà una buona come dire una buona speranza o poi magari non ci riusciremo ma sento che è una partita che ci stiamo giocando noi ecco questo beh guarda su quello io ti dico da esterno direi proprio di sì poi guarda l'ho già detto però lo ripeto dall'esterno chi ti vede no tante volte secondo me non percepisce veramente la persona che sta vedendo intesa come raggiungere quello che hai raggiunto te a livello di creare il project ma proprio anche banalmente dal punto di vista io penso anche imprenditoriale per carità con la realtà che hai creato a 40 anni perché tu hai giusto ai 40 anni infatti l'anno scorso vero? Cioè guarda che per queste cose qua sei giovane alla fin fine cioè a questi livelli io penso se penso a queste cose penso 50-60 anni di persona cioè cioè veramente e il fatto che comunque tu ti ponga così anche sui social eccetera perché questa non è una cosa che secondo me traspare perché banalmente il classico manager o persona che raggiunge quei risultati è quello classico che vediamo tutto giacca e cravatta distinto eccetera cioè è una cosa sia ammirevole da un lato sia che può essere appunto da da monito anche per ragazzi giovani persone comunque in generale questo sicuramente sì è che io non è che mi identifico col mio ruolo cioè nel senso non è che io mi sento un imprenditore non è che io mi sento un manager non è che nel senso tra virgolette io sono allo stesso livello dei miei dipendenti e ognuno ha delle mansioni all'interno di di questa azienda di tra virgolette di questa famiglia se vuoi cioè non non riesco a darmi tra virgolette importanza anche perché secondo me le persone con cui collaboro sono tutte più brave di me nella cosa attraverso cui cioè nel senso Paolo Evangelista è più bravo di me Daniele Esposito è più bravo di me Andrea Roncari è più bravo di me cioè il fatto di essere sempre circondato da persone da cui imparo da persone cioè nel senso che mi stimola dicono ah cavoli non ci avevo pensato ah grazie cioè alla fine mi permette sempre di avere dei punti di riferimento io stesso a cui ambire ecco nel senso secondo me questa è una cosa una cosa bella dell'azienda una cosa importante nel senso che comunque io ho assolutamente stima di tutti i miei collaboratori proprio perché mi insegnano ogni giorno qualcosa tra virgolette che non so e l'azienda ha assolutamente fame di nuovi collaboratori che ci insegnino cose cose nuove che possiamo imparare ecco quindi cioè nel senso questo non mi fa sentire se vuoi migliore degli altri e quindi mi considero come il giorno uno in cui sono partito capito capito ma guarda abbiamo visto veramente un bel po' di cose cioè praticamente il tuo percorso un po' in generale e secondo me può essere veramente di ispirazione sicuramente nemmeno per me lo è perché ti dico veramente come ti dicevo prima in tanti mi scrivono appunto per questa mancanza di motivazione di stimoli in questo periodo sicuramente anche cioè il motivo ce l'hanno è valido però lo stesso secondo me può essere veramente un un aiuto anche perché no per chi appunto ha seguito questa questa intervista per me lo è stato di sicuro e niente guarda secondo me possiamo anche anche chiudere qui io direi che ringraziamo chi ci sta seguendo io ringrazio te per aver partecipato innanzitutto ringrazio chi ci sta seguendo chi sta ascoltando questo podcast e se avete qualche dubbio o qualcosa potete tranquillamente scriverlo qui nei commenti tu vuoi aggiungere qualcosa Andrea? ma allora guarda visto che parlavamo di motivazione voglio dire questa cosa che è arrivato fino fino alla fine nel senso che il motivo per cui io faccio io le cose non è un motivo aulico positivo buono ma anzi al contrario io faccio le cose per paura e per rabbia se vuoi paura perché ho sempre paura che tutto quello che faccio a un certo punto crolli e quindi il fare mi toglie qualsiasi paura cioè nel senso che quando non fai sei passivo rispetto agli eventi che ti capitano e subisci invece il fare anche se ogni giorno ti si presenta un problema nel momento in cui fai lo stai affrontando e quindi la paura che uno può avere si rimpicciolisce perché nel momento in cui fai non stai a pensare e farsi le seghe mentali che ti frega invece se tu sei attivo poi questa cosa va via e quindi siccome io sono un pauroso il fare mi aiuta a esserlo meno e dall'altra parte io faccio perché quando vedo qualcosa che dico mi insega fa cagare quella roba lì cioè non mi piace allora dico vabbè la facciamo noi nel senso lo faccio perché mi sta sulle balle che ci siano altre cose che magari vendono che però fanno schifo e allora dico ma scusa perché cioè quella roba non mi piace voglio creare un'alternativa e il project è nato un po' così perché io ho visto quello che c'era ho detto cavoli cioè sti siti sul fitness che c'erano 8-10 anni fa erano tutti dei siti che facevano cagare e quindi mi sono detto facciamo una cosa bella degna cioè che dia un po' dignità a questo ambiente però l'ho fatto per rabbia se vuoi nel senso perché mi stava sulle balle che c'era quella roba lì infatti chi critica il project io gli dico sempre senti se ti fa cagare il project fai di meglio nel senso se tu pensi che noi facciamo cagare hai la possibilità di fare di meglio e di pigliare il nostro posto cioè accomodati fai e poi evitiamo assolutamente direi che possono degli ottimi consigli questi in generale ecco bene e allora io ti ringrazio di nuovo grazie grazie a voi grazie Riccardo grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi